Anza che ha partecipato a uno dei quattro corti presentati oggi al festival, il suo corto era Woman Dress. Maia, come vai hai deciso di partecipare a questa cosa che mette in luce la creatività femminile? Questa cosa è nata in modo assolutamente spontaneo, nel senso che già da poco grande ha pensato subito di fare l'ordine dei corti, praticamente avete visto per primo l'ultimo che è stato fatto e prima erano stati fatti i fili di Zoe Cassavetes, Luquenzia e Martel, tutti molto belli, ma prima di quello di oggi in realtà non avevamo usato molto delle attrici, soprattutto delle modelle. Giada che è una regista di cinema e che ci tiene molto a lavorare con gli attori mi ha detto senti a me piacerebbe molto comunque avere un'attrice nel film e ti va di fare questa cosa insieme, sarà un giorno al massimo di riprese, ci divertiamo e facciamo una bella esperienza. Io sono stata subito conquistata anche dalla sua idea, perché mi ha spiegato subito l'idea del corto, quello che aveva scritto e ovviamente poi sposato a tutto il progetto di Miuccia Prada, di cercare di portare avanti il talento delle donne, mi è sembrato proprio un bel contesto in cui fare questa cosa. È una domanda che non c'entra con i corti, so che tu vivi a Parigi ed ultimamente, nonostante tu sia una delle migliori in Italia, non lavori più in Italia, comunque spesso parlare, poco spesso parlare di te. Come mai questa scelta? No, guarda, è stata una cosa che è capitata nel periodo, diciamo, un po' di fuoco in cui stanno succedendo delle belle cose in Italia, ho avuto il desiderio di confrontarmi con un altro paese, con una nuova lingua, ho studiato in Inghilterra, poi sono venuta a vivere in Italia, ho lavorato in Italia e avevo voglia anche di imparare il francese, di confrontarmi con il francese, e quindi mi sono detta perché no, o adesso, o mai più. Sono felice perché in realtà riesco a lavorare in tutti i miei paesi, scegliendo con attenzione le cose che amo fare, anche per quello magari sono meno presente, perché preferisco fare cose che amo veramente. Ogni tanto sono belle cose, ogni tanto un po' meno, perché non si può sempre rinnovare, però ci provo? Grazie. Grazie a voi. Un saluto agli amici di Radio Bue. Ah, gli amici, è, forse è l'università, no? Sì, Radio Bue. Ah, è la radio, scusatemi. Un saluto agli amici di Radio Bue.